Direttamente dal set Ridley Scott del film Polghetti, eccolo qui Nicola Svaparidis formato movie star con l'occhiale che sono fuori fuoco? Oh si, le tue fanti li conoscono, che dici Nicola? Sto bene, sto bene, ma te l'ho tirato un sacco di tempo, l'ultima volta era Capri, un capodanno Ma tu sei diventato un divo di Hollywood, oramai non ci frequenti più, ma tu frequenti solo di video di Hollywood, a me non mi copri più ormai, invece dobbiamo vederci, qui che fai a Venezia? Sono qua ospite con Vanity Fair, quindi faccio l'imbucato per due giorni, molto bello, allora ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo? Sì sì assolutamente, Vaporidis Merita, Vaporidis grande Nicola Svaparidis, grande Pasquale, ciao bello, a Venezia Germano